Un'altra nuova funzione di AutoCAD è la riga del comando che è posizionata in basso ma che a differenza delle altre versioni può essere spostata e quindi mobile. La riga del comando presenta alcune aree come ad esempio a sinistra e a estrema sinistra la presa, la croce per chiuderla, poi abbiamo la chiave per personalizzare le funzioni, la prima freccia mi dà l'elenco dei comandi che ho appena attivato, ricordo che nell'area dei comandi posso digitare l'inizio di un comando e AutoCAD ad esempio mi propone tutti i comandi che cominciano con questa lettera. A destra ho la classica funzione che è la di F2, quindi la storia di tutti i comandi e dell'interazione. Con chiave posso ad esempio definire le altre opzioni come completamente automatico, le righe di cronologia, cioè quante righe di cronologia posso e voglio avere, la trasparenza quindi la possibilità di definire la trasparenza della riga che comandi rispetto allo sfondo e le opzioni che sono quelle della visualizzazione, quindi scheda visualizzazione nella finestra opzioni. La riga dei comandi può essere spostata nella posizione originale. Nella barra di stato abbiamo due nuove icone, la prima è deduzione dei vincoli, cioè noi possiamo attivare la deduzione dei vincoli e il sistema nel disegno mi propone il vincolo relativo o che potrebbe essere inserito. Il vincolo può essere spostato e ovviamente può anche essere cancellato, quindi disattivato. Un'altra icona interessante è questa relativa al controllo annotazioni. Attivando questa icona nel disegno vengono visualizzate, vengono quindi presentate tutte le quote che non sono annotative, cioè le quote che hanno perso il collegamento con il punto inserito, quindi che non sono associative. Cliccando sull'icona gialla, riassocia, il sistema mi chiede di riassociare il punto, i due punti in questo caso di quotatura e come si può vedere la quota diventa associativa. Un'altra funzione interessante è quella del formato dei file. La 2013 ha un formato particolare, quindi formato 2013, che è incompatibile con i formati precedenti. Ovviamente si possono salvare i file anche nei vari formati precedenti, come in tutte le altre versioni. Possiamo nell'anteprima memorizzare automaticamente il nostro file nel cloud, cioè quindi nel server autodesk, oppure impostare o cambiare le impostazioni che abbiamo già visto, sono relative all'impostazione del cloud in linea relative alla nostra utenza. Una curiosità, per sapere qual è il formato e qual è la versione di un disegno. Possiamo andare nel sito cadtutor.com e nelle risorse S01, risorse per AutoCAD, possiamo vedere quali sono i numeri che corrispondono alla versione di un file di dvg. c'è dato un file, o se quando riceviamo un file dvg, possiamo ridefinire o andare a vedere, a scoprire qual è il formato di versione di AutoCAD che ha creato il file che ci riguarda. Editando con un file normale di editor di testi, le prime lettere sono quelle relative al formato. il formato 2013 ha la sigla AC1027.